come state? beh vacanze finite torno al lavoro e ogni momento è buono per fare un vlog c'ho il fiatone ma c'ho dei problemi oggi scanniamo il due tempi f***a 50 sono arrivato 60 allora questa moto questo motorino ha questo piccolo problema che bisogna tenerlo su un po' di giri se no non mancazza tipo adesso il rumore dei due tempi sembra affascinante però il problema sai qual'è che non va un cazzo sto coso ma non ci provo neanche a sorpassarlo ci metto un quarto d'ora ragazzi ci sono un po' di novità ma mi fa male la gola la novità è che ci sono gli adesivi li ho fatti fare li ho fatti fare pochi ci sono lì 4 o 5 quindi chi li vuole basta che mi scrive sono passato lì per il potenza la smart andiamo a fare un cinquello di benza dai vediamo quanta ce ne sta dai va va mi metto anche un po' in scincarena 64 66 68 69 70 miglia ororie dai cazzo che non va tutta la vita ma si è accesa ancora la spia della riserva merda mi è entrato qualcosa nell'occhio che si muove tra l'altro porca traia puttana morto allora per quelli che mi hanno detto che con il motorino cinquantino ciclomotore non riescono a cambiare le marce senza la frizione mano è qua tecnicamente si riesce anche a scalare ho ucciso una farfalla mi dispiace farfalla ma le farfalle mica avevano un giorno minchia questa ne è anche arrivata alle 3 del pomeriggio allora prossimo video vi porto con aia vi porto a mangiare i pizzoccheri perché andiamo o a teglio o a madesimo e ci facciamo la pizzoccherata bastarda e ci scassiamo di pizzoccheri e poi si sta avvicinando che è il momento di EICMA 2016 allora io ho provato meschinamente a iscrivermi come stampa vediamo se mi mandano il pass così vado il giovedì che non c'è un cazzo di nessuno magari trovo Andrea Galeazzi quindi questo è un vlog totalmente cazzeggiante non è successo un cazzo di niente di particolare se non che modo devo cercare le chiavi del cancello e ci rivediamo tra due secondi e che cambio di nuovo il mezzo allora siccome mi sono dimenticato che l'altro mezzo ce l'ho a casa e devo andare a recuperarlo faccio che chiuderla qua perché fa un caldo bestia mi sono rotti i marroni quindi bruciaone